Il Museo Fondazione Paparella Treccia di Pescara ospita la mostra dal titolo Giorgio De Chirico, la memoria e l'enigma, l'ultima stagione della metafisica a cura della professoressa Elena Pontigia, docente di storia dell'arte all'Accademia di Brera e al Politecnico di Milano. L'esposizione organizzata in collaborazione con la Fondazione Giorgio e Isa De Chirico di Roma, dalla quale provengono le 26 opere uniche, aprirà al pubblico domani sabato 9 aprile. Augusto Di Lucio, presidente della Fondazione Paparella Treccia, esprime grande soddisfazione per questo evento culturale di rilevante importanza per la città di Pescara. Questa mattina in comune la presentazione della mostra. 26 opere della neometafisica. Sono opere che il maestro ha dipinto negli ultimi dieci anni della sua vita, ma sono di una freschezza e di un fascino indescrivibile. Sono lieto di poter comunicare che il presidente della Fondazione De Chirico di Roma ha scritto che il maestro sarebbe stato molto contento di vedere i suoi lavori esposti a Villa Orania accanto alle magnifiche ceramiche barocche della collezione Paparella. È importante per il ritorno turistico. Si immagina che noi già abbiamo avuto pernotazioni da Milano e da Roma, oltre che da vari centri abruzzesi. da prima dell'apertura. Quindi confidiamo molto nella presenza, nella partecipazione di cittadini, anche pescaresi soprattutto, che hanno magari a pochi passi da casa un evento di importanza internazionale.